Potrebbe sembrare una scena dei film della commedia italiana della fine degli anni 70, ma a quanto pare si tratterebbe di realtà. L'amore per lo sport, e nello specifico della pallavola a tinte femminili, avrebbe portato un uomo a spiare fin dove non poteva spiare. L'uomo in questione di professione e vocazione sarebbe un sacerdote. Sarebbe stato sorpreso a spiare lo spogliatoio delle ragazze, con dinamiche ancora da chiarire. Al momento, dalla curia vescovile della società sportiva interessata non trapela nulla, ma non si registrano neppure smentite. Abbiamo provato a contattarli, ma al momento solo no comment. La passione del protagonista della vicenda per la pallavolo sarebbe andata molto oltre, quando avrebbe deciso di sfruttare una buona posizione di osservazione per guardare dentro lo spogliatoio al termine dell'allenamento. Occhi indiscreti che sarebbero stati notati da qualcuno. Così sarebbe scattata la telefonata alle forze dell'ordine. Sono passate poche ore per la diffusione della notizia. Ora in città non si parla di altro, nei bar per le strade e l'ironia nei social network è passata in primo piano.